felice regresso figli della me, quest'oggi per talenti di periferia ho un topic raga che fa paura qual'è il topic? il topic è i rapper senza palle, una generazione di senza palle generazione che nel tempo libero tanto va a insultare con un profilo fasullo senza mettere la faccia come facciamo noi su internet che li pagano i genitori, gente che se vede per strada poi li chiede pure la foto questo è un po' il quadro della vostra generazione ma questo è perché il loro rapper preferito fa esattamente questo, cioè tirare il sasso, nascondere la mano ma il sasso che li tira è un sasso di carta è un sasso di carta, adesso va di moda il gangster rap, allora il gangster rap è solo un filone del rap a 360 gradi non è che il rap è solo quello, ma il gangster rap dovrebbe parlare come nasce di ghetto, dei problemi della strada di gang che si sparano per dei problemi e delle cose reali, ma qua si sparano su instagram a parte quello ma si sparano le cazzate, è ancora peggio adesso stiamo vivendo un problema e voi parlate delle cazzate, parlate delle fatine, dei dragoni parlate di dare i panettoni ai berboni, mi parlate delle minchiate, mi parlate di voi che scopate e vi drogate vi siete accorti che c'è un problema a livello mondiale ma soprattutto in Italia perché noi viviamo in Italia vi siete accorti che non potete più uscire per strada? vi siete accorti che vi arrestano o vi fanno la multa se vi beccano per strada all'ora sbagliata? e che non potete più scendere in piazza a protestare per una legge che non vi va bene? secondo me non si sono nemmeno accorti che non hanno più quei soldi che avevano all'inizio perché tutto quello che gira intorno all'industria musicale è fallito è fallito e nessuno all'interno della scena rap italiana nonostante tutto quello che c'è, nonostante io sparo, io sono gangsta ma poi non vengo da te perché la mia label non vuole io non prendo ordini da nessuno poi fa tutto quello che gli dice l'ufficio stampa raga 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 ma nemmeno voi della stampa siete più liberi di dire il cazzo che volete quando lo facciamo noi o ci insultano di essere troppo hater o ci insultano di essere troppo leccaculo perché ovviamente avete insegnato alla popolazione del rap italiano a ragionare per schemi io non ho ancora trovato un rapper che a parte dire riteneremo più belli di prima chi abbia un attimo messo le palle sulla bilancia capire se pesavano più di due grammi parlare di questa cosa in modo serio senza fare il complottismo perché non è complottismo perché sennò chiamo Fusaro lo invitiamo qua no non è complottismo è cercare seriamente di spiegare anche ai ragazzi a casa che stanno vivendo probabilmente una situazione oscena perché l'Italia sta morendo di fame qualcosa che c'è realmente dalla visione di un adulto non dovete aspettare che siano degli youtuber a spiegare ai vostri follower come cazzo funziona l'Italia perché voi vi mettete a cantare di minchiate della macchinetta nuova ah non sono più felice anche se ho i soldi raga raga quelli non c'hanno i soldi per mangiare a casa ma più che altro raga non potete uscire di casa vi fanno la multa se andate a protestare vi fanno il TSO sapete cos'è il TSO? quando vi mettono in manicomio praticamente è grave sta situazione chi ne parla? nessuno parlate di cazzate siete rapper senza palle vi inventate le minchiate forse perché non sono in grado di parlare di questa cosa o forse perché proprio come dicevamo prima non hanno una direzione che li possa fare loro hanno paura ecco il senza palle il rapper senza palle non è quello che va in giro a sparare anche io sono bravo a schiacciare un click su una pistola e non vuol dire avere le palle è più difficile dire a una persona come stanno le cose far vedere all'interno come sei messo cosa ne pensi e la tua situazione reale di come stai vivendo nessuno ti fa vedere realmente cosa succede tua madre non trova lavoro da due anni due anni che tua madre non lavora anche se lo cerca tuo padre sta per essere lasciato a casa tu non troverai mai lavoro perché la scuola perché quest'anno perderai un anno di scuola perché hai fatto la dad e non hai studiato un cazzo ma no per colpa della dad uno per colpa della rete interna italiana che non riesce a supportare tutto questo carico due per colpa tua che invece di stare a guardarti la lezione stai su Fortnite o guardarti il minchia che gioca a Warzone non aspettando che si fa la canzonetta con quell'altro porco di quel cazzo comunque in Italia ne abbiamo avuti eh è vero ci sono ancora adesso non se li inculano più perché se non c'hai passamontagna cazzo blu in faccia allora non sei valido se non hai l'Harkor la crew Harkor che fa ascoltare i ragazzini la crew Harkor con i ragazzini con un seguito di ragazzini con le loro tastiere in mano come sei Harkor Harkor e fa cozzone di Natale che sei Harkor e fate la canzone dell'estate basta mettere merda nel titolo per essere Harkor no ho capito ti ricordi gli infame merda Harkor infame merda Harkor no cazzo è l'evoluzione di qualcosa beh invece oggi qualcuno è riuscito a scrivere qualcosa di decente perché ok provarci però devi anche farlo bene non lo so se qualcuno ha scritto qualcosa di decente ma ci è arrivata una segnalazione di questo ragazzo che già conosciamo perché tanti ragazzi ci hanno mandato il nome che è Biagiotti che dice di aver fatto una cosa simile io adesso spero a Cristo Biagiotti Experience io adesso spero a Cristo che sia bravo perché se dopo se dopo tutta sta manfrina fa pure cacare al cazzo questo si spacco la faccia davanti a tutti sicuramente è lodabile ho vomitato perché pensavo ancora all'accordo di prima sicuramente è lodevole essersi spostato da questa cosa soprattutto in questo momento dove se non fai quello non vai di moda capiamo che cosa ha fatto secondo me è una merda vai sì come sempre che cosa ci aspettiamo dice che questo video è girato nel 2031 dove c'è una situazione probabilmente un'evoluzione di quello che è il coronavirus lui si è immaginato il distanziamento sociale che ha reso tutti schiavi in un alveare digitale almeno c'è un ehi ciotti 2031 guardalo ecco ma che cazzo ci è successo questo è indie hipster amico tuo tu eri così a me non mi drogavo il mondo che ruota come una frusta elettrica lui è tutto basso lui è matto giardini imperiali di prima ma lui tecnicamente non mi piace se mi chiedi nome io rispondo nessuno e lavorare devi fare e lavorare devi cercare non torcò come testa dai non fare però le facce da matto che si già uno che le fa che non è banale questa roba ecco qua un po' di autotune ci sta è scritto da Fosso il mix sciablo comunque nella Torino storica mi piace anche com'è vestito eserto e beh sì molto pacco come linee vocali in realtà canonicamente non è rap è molto X-Factor X-Factor è molto bella è bella non rimane guarda la Dea Dora dietro Dea Dora? sì c'è anche il Dio Po quella è la Dea Dora e di là c'è il Dio Po non conosce il Dio Po? no mai sentito parlare del Dio Po a te ogni tanto e quindi lui poi scava e trova la bottiglia che ha buttato all'inizio acqua non buttare le bottiglie anche questa roba della bottiglia che non si è disintegrata classica dura 400 anni a livello musicale non è cazzo mio non è al core sai cos'è? è quella roba pop mascherata da canzonetta che resta in testa a ci infilo dentro anche un messaggio sociale però a noi il messaggio sociale piace diretto e qua è arzigogolato no? è un po' anche se c'è quella cosa del ovviamente ti fa capire che nel futuro ti parla questa cosa del SG magari a Christopher se non seggi in Italia che abbiamo problemi anche a guardarci una roba in stream abbiamo problemi a seguire le lezioni in streaming raga e si perché se nell'altro monitor c'hai i Pornhub però in casa se ci sono 5 cristiani che utilizzano internet uno perché lavora uno perché deve fare musica uno perché deve fare cose è ovvio che è un cazzo che c'hai per guardarti dalla lezione in streaming del tuo professore che abita in mezzo alle montagne e non ha una connessione stabile professor Castagna no qua c'è veramente tanto da dire su questa situazione e tanto da dire che non dovremmo dirlo noi ma dovrebbero dirlo loro che hanno una posizione molto più in alto non l'ha detto neanche Biagiotti diciamo che l'ha accennato però c'è un accenno capito? ha fatto però pensare a una cosa in modo non cupo non come avrebbero fatto i 16 barre cioè sarebbero stati molto più teatrali sì anzi forse scansonatamente ma ricordato anche dal titolo 2030 DJ Axe te la ricordi? sì che era però già lì parlava di una cosa diversa parlava l'ipolitica degli anni 90 ma anche di musica non c'era una visione così consapevole di un futuro lì era ipotetico e esagerato era giocoso però anche questo è giocoso solo che adesso si è avverato per una roba urban così è carina c'è tanta roba che fa urban così qua ci stava sì anche secondo me perché secondo me era calante su alcune robe sul ritornello ma al di là di cose tecniche al di là del piacere non piacere il fatto di vedere ragazzi che comunque sperimentano e non hanno paura di rimanere in quella cazza perché è troppo più facile mettersi un mascherello e fare la retorica due ballettini di merda far finta la retorica è più difficile spostarsi e cercare di prendersi una situazione differente lontano ma cercando comunque di rimanere inquadrati in un tema facciamo una challenge ragazzi se avete prodotti del genere musicali di questo tipo che avete fatto anche voi o un vostro amico che parla comunque di problematiche reali segnatecele qua sotto taggate i vostri amici qua sotto metteteci link oppure scrivete qua sotto che video possiamo andare a vedere in modo che riusciamo anche noi a capire fateci sapere anche voi cosa ne pensate di quello che abbiamo detto diamogli un aiutino perché magari dicono eh ma tematiche è troppo grosso il distanziamento sociale è la tematica di questo ragazzo ma al di là del distanziamento sociale il distanziamento che c'è in casa provate a scrivere un pezzo anche non rap per forza rapato ma non gangsta magari e analizzare il perché non parlate con i vostri genitori qual è l'assenza di comunicazione o comunque per i ragazzi più grandi anche analizzare la situazione che hanno in casa che vivono lì in casa col proprio partner appunto con i genitori o con i figli certo mi piacerebbe avere uno screen di questa Italia del 2021 che si apre verso un nuovo anno dopo un anno devastante del genere oppure scrivete quanto siete troppo più hardcore il vostro quartiere è fatto troppo più brutto e i vostri fratelli spacca non puoi parlare di loro che ti sparano alle gambe e i vostri fratelli e i vostri fratelli e i vostri fratelli e i vostri fratelli e i vostri fratelli